8, 7, 6, 5, 4 Ok, partiamo in cervello, attenzione, prima curve Benissima battaglia iniziale tra Pantò e Cicciò Purtroppo Cicciò perde il controllo della vettura e scende dalla seconda posizione, in terza posizione Attualmente primo Pantò, secondo Casablanca, terzo Cicciò quarto Barbera Ricordo che questa è la finale, scala 1,5, grazie a Bodi Al primo minuto di gara vediamo Pantò in prima posizione Pantò in secondo Casablanca, terzo Cicciò, quarto Barbera Milo attento di Pantò, 17, 0, 24 effettuato al quarto giro, giro attuale Due minuti trascorsi, 18 minuti hanno termine Pergastare Cicciò Grazie. 3 minuti trascorsi, 17 minuti al termine, prima posizione, sempre per Pantofitto, Giasi 12, quarta posizione per Casablanca, terza posizione per Ciccio, quarta posizione per Barbera. Attenzione ai problemi per la metteria di la Sablanca, ma subito risolto, quindi riparte, che sfreccia e difende egregiamente la sua seconda posizione, sale in seconda posizione Ciccio, scende in terza posizione Casablanca, quarta posizione, serve per Barbera Lillo, l'interno attuale Pantofitto. Pantofitto. 5 minuti trascorsi, 15 minuti, 8, 13, categoria a scala 1,5 gradi modi. 6 minuti trascorsi, 15 minuti, 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 15 minuti 6 minuti trascorsi, silenziale attuale, prima posizione Pantò, seconda posizione Cicco, terza posizione Casablanca, quarta posizione Barbera, quinta posizione per Malino, per Mendovano partito, 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 Tanto su Casablanca 8 minuti trascorsi 12 minuti al termine attenzione inizio rettilineo attenzione inizio rettilineo ok pista libera attenzione inizio attenzione inizio attenzione det här Eriksilver attenzione attenzione 9 minuti trascorsi, 11 minuti al termine di categoria che non ha bisogno di rifornimenti, quindi fanno il pieno e careggiano per 20-30 minuti consecutivi, quindi divertimento assicurato. Siamo già a metà gara, 10 minuti trascorsi, ultimi 10 minuti di gara. Situazione momentanea, primo posto per Pantò, secondo posto per Casablanca, terzo posto Ciccio, quarto posto Barbera, 34 giri per Pantò, 31 Casablanca, 31 Ciccio, 19 Barbera. Attenzione, macchina ferma di Barbera, faccuno! Ciao! Grazie! 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 11 minuti e mezzo trasporti, 8 minuti e mezzo al termine 12 minuti, trascorsi 8 minuti al termine primo Pantò, secondo Ciccio, terzo Ciccio Branca grazie a Farbera grazie a tutti 7 minuti al termine abbiamo Pantò, 44 giri, Casablanca 40 per Ciccio, 22 per Barbera conquista la seconda posizione, Casablanca, bellissima battaglia tra Ciccio e Casablanca per la seconda posizione apprendendo occupata da Ciccio, di scappo minimo, solo di un secondo a favore di Ciccio grazie a tutti grazie a tutti ultimi 6 minuti grazie a tutti 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 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!